Allora, io introduco intanto i nostri ospiti che sono il professor Illuminati da Lucerna e il professor Nenaz Stojanovic da Ginevra, che arriverà tra breve, penso intorno alle 20.45, quando inizieremo ufficialmente il dibattito. Molti di noi hanno già votato, per cui l'argomento e potrebbe essere considerato archiviato. In realtà abbiamo pensato che l'oggetto è tanto importante che comunque ha bisogno di considerazione. Di che si tratta? L'iniziativa popolare per la designazione dei giudici federali, mediante esorteggio, definita anche come iniziativa sulla giustizia, è stata depositata il 26 agosto 2019, con le 130.100 firme valide, e chiede che in futuro i giudici del Tribunale federale siano designati mediante il sorteggio. Nei Svizzera i giudici sono eletti su scala cantonale e nazionale, dal popolo o dal Parlamento. Per l'elezione al Tribunale federale è competente l'Assemblea federale. In caso di accettazione dell'iniziativa, la scelta dei giudici quindi passerebbe dal Tribunale federale alla sorte. Comunque, prima di essere passati alla sorte, c'è una commissione peritale e designata dal Consiglio federale che esamina l'idoneità professionale e personale dei candidati. In particolare, questi ultimi devono e possedere una formazione giuridica di alto livello e anni di esperienza professionale. Non devono aver commesso reati e devono essere affidabili per poter partecipare al sorteggio. In linea di massima, il mandato dei giudici cesserebbe cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Dessi potrebbero essere destituiti unicamente mediante una procedura di destituzione, ossia l'Assemblea federale che potrebbe destituire su proposta del Consiglio federale se violano gravemente i doveri d'ufficio o hanno durevolmente perso la capacità di esercitare l'ufficio. Grazie. Ora diamo la parola ai nostri due esperti. Partirei col comitato d'iniziativa, col professore Stojanovic. Prego. Grazie, grazie mille dell'invito e della possibilità di dire qualcosa in favore di questa iniziativa su cui si vota domenica. Non so se all'estero, immagino che avete già votato, perché a questo punto chi non ha votato, forse un po' tardi però. Con molto piacere quindi ho raccolto questo invito. Allora, la domanda che si pone è la seguente. Quando pensiamo a un tribunale, in questo caso il Tribunale federale, che tipo di giudici vogliamo? E noi diciamo che contano soprattutto due cose, vogliamo giudici indipendenti e vogliamo giudici competenti. Io vi garantisco che su entrambe queste cose, indipendenza e competenza, l'iniziativa avrà degli effetti migliori rispetto alla situazione odierta. L'iniziativa quindi chiede che una volta nominato tramite sorteggio, un giudice rimanga in carica fino all'età della pensione più cinque anni, quindi fino a 69-70 anni. Oggigiorno rimangono fino a 68 anni in generale. Quindi da questo lato non c'è un grande cambiamento, ma il grande cambiamento è che oggigiorno devono essere eletti ogni sei anni dal Parlamento. Ogni sei anni. E questa procedura quindi di rielezione regolare ogni sei anni è qualcosa che non esiste in nessun'altra democrazia. Michele Luminati mi correggerà, ma in nessun'altra democrazia i giudici per la più alta corte vengono sottomessi a una rielezione ogni sei anni. In generale vengono nominati, eletti, secondo varie procedure, fino appunto all'età della pensione, in alcuni casi è un'elezione a vita come negli Stati Uniti, ma noi non proponiamo un'elezione a vita, proponiamo quindi fino all'età della pensione più cinque anni, il che è appunto una garanzia dell'indipendenza. Non a caso in tutti gli altri paesi hanno scelto un sistema che una volta nominato il giudice rimanga in carica. Non a caso perché si vuole l'indipendenza, da noi invece non è il caso. E purtroppo abbiamo delle prove, abbiamo delle testimonianze, ve le posso citare più tardi se volete, che ci sono, io non dico tutti i giudici, ma ci sono dei giudici che dichiarano che il loro partito li mette sotto pressione, li chiamano i parlamentari, discutono regolarmente di sentenze ancora aperte. Ci sono partiti come Udc che addirittura chiedono una verifica che il giudice rispetta la linea ideologica del partito e che nella giurisprudenza faccia il possibile affinché i principi di questo partito siano attuati nel migliore dei modi. Ecco, ci sono delle testimonianze, delle prove che oggigiorno non funziona tutto bene dal punto di vista dell'indipendenza. Un'altra prova è anche che tutti i giudici sono tenuti a pagare ai propri partiti una tassa annua fino a circa 20.000 franchi all'anno, anche questa cosa che non esiste in nessun'altra democrazia, però che da noi viene accettata. Ecco, questo per quanto riguarda l'indipendenza, per quanto riguarda la competenza, anche lì, io non dico che adesso tutti i giudici attuali sono incompetenti, dico semplicemente che ci sono tutta una serie di persone qualificate che oggi non hanno accesso, non hanno accesso al Tribunale federale. Quindi possono essere migliori giudisti della Svizzera, ma se non sono membri o affiliati a un partito politico hanno zero chance, zero chance di essere eletti dal Parlamento. L'ultimo indipendente è stato eletto nel 1942 e da lì non c'è più stato un indipendente. Ma anche se qualcuno è legato a un partito, se siete di un partito la cui quota è già riempita, è spesso riempita per i prossimi magari vent'anni che il giudice non va in pensione, ma anche lì potete essere il miglior giudice della Svizzera, ma non avete nessuna possibilità di essere nemmeno presi in considerazione. Zero. Ecco, a questo si aggiunge che ci sono degli studi scientifici che dimostrano che quando si sa a monte che alla fine sarà il sorteggio a decidere, si ricevono, si candidano più persone qualificate, soprattutto si candidano anche più donne, per esempio. Invece oggi sappiamo che nelle facoltà di diritto il 60% delle persone che finiscono una facoltà di diritto sono donne e soltanto, credo, 15 su 38 nel Tribunale federale sono donne. Ecco, da tutti questi punti di vista, riassumo, indipendenza e competenza, l'iniziativa permette di fare un passo in avanti rispetto alla situazione attuale. Bene, dopo questa premessa è la parola al professor Illuminati. Allora, grazie anche da parte mia per l'invito, anche se effettivamente diciamo siamo a ridosso quasi delle lettere da votazione, il tema non morirà domenica, penso io, dunque dopo la votazione sarà prima della riforma. Nel senso penso che sia importante discuterlo. Prima vorrei innanzitutto correggere una cosa che ha detto Nina Stojanovic, che circola continuamente anche nei giornali, eccetera, che però è effettivamente sbagliata. Non c'è mai stato un giudice cosiddetto indipendente senza partito. Il giudice che viene sempre tirato fuori da questo punto di vista era Paolo Logo, eletto nel 42, ma Logo era un politico di alto rango, era membro del Consiglio nazionale, era membro di un partito ginevrino di destra borghese dell'epoca, era semplicemente non dentro una frazione, non dentro una delle frazioni del Parlamento, per cui non è mai esistito un giudice senza partito. Purtroppo ci sono delle ricerche che altri hanno fatto e che continuano a portare avanti questo argomento che non esiste. Dunque c'è sempre stato un legame tra i partiti e i giudici. Non sono mai esistiti i giudici senza partito. Però bisogna dire da questo punto di vista che spesso oggi i giudici che vengono eletti al Tribunale federale non sono più membri di un partito, spesso non sono semplicemente simpatizzanti, cioè devono in qualche modo dichiararsi vicini a un partito per poter essere poi portati da questo partito. Dunque si è affievolito questo legame stretto tra partiti politici e giudici. Comunque, a prescindere, io sono un problema di per sé, nel senso che, come diceva anche Stojanovic, tanti ottimi giuristi e giuriste non intraprendono la carriera giudiziaria perché non vogliono iscriversi o essere dichiarati vicini a un partito politico, il che è legittimo. Dunque chiaramente si esclude un gruppo di persone, a meno che, come succede spessissimo, chi vuole fare una carriera giudiziaria sceglie per opportunismo, e questa è una realtà dei fatti anche questa, un partito perché si sa che forse quel partito ha più chance di avere dei posti, ma questo non vale soltanto a livello federale, va a livello comunale, di prime istanze, tribunali cantonali, eccetera. Dunque in questo senso diciamo che anche il fatto che si dice che appunto devono dichiararsi vicini a un partito non è che poi ci dà un'indicazione effettiva di quale sia poi la posizione di un singolo giudice rispetto diciamo a tutta una serie di problemi politici, anche perché poi col tempo magari lo vediamo col giudice Don Zallà che venne proposto dall'Udc Vallesana, che era sicuramente un'Udc di estrema destra se vogliamo, e oggi si ritrova praticamente condannato dal suo partito in posizioni che non corrispondono diciamo a quella che sarebbe adesso l'ideologia dell'Udc. Sì, ma per tornare alla domanda di base, che tipo di giudice vogliamo? Indipendenza. L'indipendenza, cioè l'iniziativa dà un po' l'immagine di un tribunale federale fatto di giudici sottomessi ai partiti, corrotti in un certo senso e incapaci. Ora, tutto si può dire del tribunale federale, ma sinceramente forse non è proprio il quadro che abbiamo nel tribunale federale. È chiaro che la rielezione di per sé è un elemento che crea agitazione, pressione sui giudici, che reagiscono in modi diversi. Come diceva Stoiano, alcuni dicono, rapportano, che hanno avuto, hanno percepito la pressione dei partiti. E se però guardiamo, diciamo, quello che è successo negli ultimi 150 anni, la non rielezione di un giudice federale è avvenuta tre volte. Ed è avvenuta due volte per motivi politici anche di età, una volta chiaramente perché il giudice Schubert era considerato anche dai suoi socialisti come un giudice di posizioni abbastanza estreme, dunque ha avuto difficoltà poi a avere il supporto. D'altra parte però bisogna dire che il nostro sistema, oggi perlomeno, non essendo un sistema di opposizione-governo, ma appunto non c'è nessuna forza politica che ha il potere da sola di evitare la rielezione di un giudice federale. Ci vuole sempre più di una forza politica, il che avviene rarissimamente. Dunque Don Zalà, per esempio, l'Udc non voleva neanche rieleggere, ha avuto un'ottima rielezione perché gli altri partiti chiaramente l'hanno sostenuto. Dunque sono dei meccanismi in questo senso che perlomeno fino ad ora hanno evitato che questo succeda. Però è chiaro che dalla parte del giudice stesso ci può essere anche già il fatto che fa 20 voti in meno di un altro la rielezione o lo può percepire come un segnale, diciamo da parte della politica, che non è contenta con quello che fa. Per quanto riguarda la tassa di mandato, condivido anch'io l'idea che questo non sia una cosa buona. Però non è corruzione nel senso classico, perché non è che il partito dà dei soldi al giudice. Il giudice dà dei soldi ai partiti. Praticamente è un pizzo, se vogliamo dirla, una forma di pizzo che si paga per avere questa posizione, che ha una lunga storia in Svizzera, anche altre cariche politiche danno soldi ai partiti. Questo ha a che fare con il problema che manca una legge sul finanziamento dei partiti in Svizzera. E dunque, secondo me, è una prassi che andrebbe sicuramente, che è una pura prassi, non c'è nessuna legge che obbliga il giudice a pagare. Infatti ci sono dei giudici che non hanno mai pagato, come il giudice Loi, socialista, che nel 90 non venne quasi rieletto con due voti di scarto perché non pagava al partito la sua tassa. Ma io dico, ci sono appunto degli aspetti che andrebbero riformati. È giusto dire che dovremmo scollegarci da questo legame stretto partito, proporzionato al partito con il giudice da nominare. Però quello che l'Italia propone, secondo me, come soluzione, non porta a risolvere il problema. Intanto è un'illusione pensare che spostare dall'Assemblea federale al Consiglio federale il potere di nomina della Commissione, che dovrebbe poi nominare questi giudici, significa che la politica scompare. La politica rimane, il Consiglio federale è un organo politico. Non è che questa... E poi io potrei già stare adesso una lista di questa Commissione, se dovesse passare l'iniziativa, dei giuristi che il Consiglio federale probabilmente nominerebbe in questa Commissione, che sono chiaramente giudici vicini al Consiglio federale. Giuristi vicini al Consiglio federale. Dunque, non spostando semplicemente dal Parlamento al Governo, questa... Abbiamo visto con il Procuratore generale cosa succede, no? Spostando questa nomina della Commissione, non si raggiunge una depoliticizzazione della magistratura. Oltretutto, quello che fa il Tribunale federale è politico, in un certo senso, nel senso buono della parola. Perché le sentenze della Corte Suprema hanno un forte... una forte riflessione sulla politica, l'economia, eccetera. Dunque, pensare che, nominando degli esperti, che questi poi farebbero questa valutazione appunto oggettiva, che non esiste, oggettiva, delle competenze e dei candidati, quello che verrebbe fuori è un'ulteriore tecnicizzazione della magistratura. Perché cosa si farebbe? Si guarderebbe al curriculum, si guarderebbe appunto alla laurea, al percorso professionale come giudice e si nominerebbe chiaramente dentro una cerchia molto ristretta di persone. Il sorteggio, secondo me, non è tanto un problema il sorteggio, perché arriverebbe alla fine. Quello che è prima è il problema maggiore. Quello maggiore è che non abbiamo a che fare con una popolazione generale dalla quale scegliamo appunto in rappresentanza di varie forze politiche, culturali, linguistiche, eccetera, dei rappresentanti. Abbiamo a che fare con una cerchia ristretta di giuristi omologati che hanno fatto tutti lo stesso percorso, hanno fatto l'università, fanno l'accademia dei giudici che è a Lucerna e che praticamente in alcuni cantoni è obbligatoria, diventano giudici di prima istanza tramite i partiti ovviamente o di appello in un cantone, forse poi passano ai tribunali federali di prima istanza e poi finiscono a Losanna. Dunque di fatto oggi c'è una carriera anche se non c'è sulla carta, ma c'è una carriera ben precisa. Questo è il nuovo sistema che proporrebbe l'iniziativa, incentiverebbe questa tecnicizzazione del giudice, non creerebbe spazio per altre tipologie di giuristi che potrebbero candidarsi, perché noi abbiamo purtroppo un sistema in cui ormai a Losanna ci sono soltanto giuristi che hanno fatto una carriera giudiziaria. Non ci sono più avvocati, Don Zalà credo che sia l'ultimo avvocato ancora che direttamente dall'avvocatura è passato al Tribunale federale. Se noi lo sistema che si propone non apriremo assolutamente, perché comunque abbiamo una carriera omologata, avendo una commissione di esperti che ha di nuovo un'ottica tecnica, noi faremo altro che incentivare questa tecnicizzazione. Un avvocato di grido non si candiderà mai al Tribunale federale, intanto perché guadagna il triplo di un giudice federale, non avrebbe interesse ad andarci. E dunque rimarremo dentro questa cerchia ristretta, faremo finta che non c'è più la politica e in quel momento penseremo di avere i migliori duristi sul campo, ma non ci accorgeremo che dalla finestra è entrata la politica, perché comunque ci sono elementi politici, che però sarebbero come nascosti da questa idea della commissione di esperti che dominerebbe il Consiglio federale. Dunque, i problemi ci sono, le riforme andrebbero fatte, ma la soluzione non porterebbe, diciamo, un vantaggio, non porterebbe un incremento di quello che si vorrebbe raggiungere. Il professor Espejanovic vuole dare una replica a questo? Sì, volentieri, poi volentieri apriamo magari anche a chi ci ascolta. E apriamo il dibattito a chi vuole intervenire. Michele, come posso dire, da un lato confermi tutta una serie di cose, anzi dici che è ancora peggio di quello che ho detto io, nel senso che non c'è mai stato un indipendente. Oggi sono tutti omologati e non troviamo nessun avvocato, tranne uno forse, però questa è la situazione oggi, quindi oggi ci sono tutti questi problemi di cui parlavo e l'iniziativa offre una soluzione. Adesso è possibile immaginare altre soluzioni, ad esempio il Parlamento avrebbe già fatto un bel passo in avanti, comunque in favore dell'indipendenza dei giudici, se avessero deciso di fare un controprogetto dove diciamo, vabbè, dimentichiamo il sorteggio e l'idea della commissione di esperti che dice chi sono i candidati idonei per entrare nel sorteggio. Però teniamo almeno questa nomina fino all'età della pensione che garantisce di fatto l'indipendenza, che di fatto risolve il problema anche di queste tasse di mandato, perché a questo punto quando uno sa che non è più ricattato, però in un certo senso sì che ogni sei anni deve essere rialetto, non ci sarebbe questo legame col partito. Quindi il Parlamento avrebbe potuto fare il controprogetto, ma non l'hanno fatto perché non vogliono perdere il potere, vogliono mantenere il potere che hanno su questi giudici e quindi adesso immaginare delle riforme anche minime è illusorio. Adesso abbiamo la possibilità di cambiare il sistema grazie alla votazione e se non passa l'iniziativa posso scommettere tutto quel che vuoi che passeranno anni, decenni senza che qualcosa cambi. Proprio ieri la notizia che una commissione del Consiglio nazionale ha bocciato un'iniziativa parlamentare del PLR che chiede di abolire, di vietare queste tasse che i giudici devono pagare. Ieri bocciata in commissione, non vogliono neanche quello, neanche questo minimo passo in avanti, vogliono mantenere il sistema attuale e quindi io sono veramente, come posso dire, sconcertato anche da tante fake news che leggo su questo tema, non quello che hai raccontato tu ma quello che dice il Consiglio federale, quello che dicono i partiti. Dicono che proponiamo un'elezione a vita, non è vero. Dicono, e li hai smentiti tu stesso Michele, dicono che è la tradizione svizzera, la somaruga, è la tradizione svizzera che tutti i partiti siano equamente rappresentati, eccetera. Mentre in realtà, come giustamente dici tu, oggi tu non sai un giudice eletto in quota socialista, liberale, PPD, piuttosto che Udc o verde, che sia veramente un giudice che condivide grosso modo le idee di quel partito. Non lo sai perché, come dici tu, scelgono per opportunismo e si capisce, non vogliamo biasimarli perché se non si affiliano a un partito, anch'io non ho detto che devono essere membri, devono essere affiliati, quindi dichiararsi di fatto affiliati a un partito e pagare la tassa al partito. E quindi non si possono biasimare questi giudici perché se vogliono essere eletti nel Tribunale federale devono andare in un partito piuttosto che nell'altro. Ma questo cosa vuol dire? Due cose. Vuol dire che l'argomento del Consiglio federale dei partiti che dicono manteniamo il sistema attuale perché così abbiamo un bel equilibrio di vari partiti, sono tutte balle perché non sappiamo quale ideologia politica hanno questi giudici. La prima cosa. La seconda cosa. Su che base si divide la torta? 38 giudici più supplenti, più quelli del penale, Tribunale amministrativo federale, eccetera. Su che base? Sulla base dei seggi in Parlamento che di fatto fanno sì che l'Udc, il partito della nostra destra sovranista, direste in Italia, o si direbbe in Italia, ha 12 giudici su 38, la maggioranza relativa, PLR credo ne abbia 7, socialisti ne hanno 5, i verdi ne hanno 4, ma l'Udc ne ha 12, quindi quasi un terzo. Però a me dispiace, l'Udc non è un terzo della Svizzera e non è neanche un terzo dei giuristi che escono dalle facoltà di diritto. Noi abbiamo un Parlamento che è eletto da meno della metà di quelli che hanno il diritto di voto, senza dimenticare che un terzo della popolazione svizzera, minorenni e stranieri, che pure anche loro possono finire davanti al Tribunale federale, non hanno il diritto di voto, però quelli che hanno il diritto di voto meno della metà vota e fra quello meno della metà l'Udc ha la sua percentuale del 25% ed è grazie a quella percentuale che riceve un terzo dei seggi dei propri giudici e in più è il partito, grazie alla testimonianza di Don Zalà, che li mette sotto pressione, che li chiama, come ho detto prima, li chiama a casa, li incontra regolarmente eccetera eccetera. È stato Don Zalà stesso che ha detto, titolo dell'Udc, dell'NZZ, l'intervista 9 settembre dell'anno scorso, l'Udc strumentalizza la giustizia. Quindi il titolo, l'intervista NZZ, detto da un giudice che era Udc, quindi che conosce dall'interno, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? Cioè un partito che si permette in questo modo di influenzare e di mettere sotto pressione i propri giudici, i propri giudici e poi ecco, per fortuna abbiamo uno che ha parlato, Don Zalà, e per fortuna Don Zalà è vero, è stato rieletto dal Parlamento, però quando mi dicono, ah ma il caso Don Zalà, non l'hai detto tu ma lo dicono di nuovo gli avversari, ma il caso Don Zalà dimostra che il sistema funziona, perché vedete, l'Udc l'ha messo sotto pressione, lui ha resistito e il Parlamento comunque l'ha rieletto. Ma cosa dimostra che il sistema funziona? Leggete l'intervista di Don Zalà, Don Zalà non parla solo di se stesso, parla di tutti i giudici dell'Udc che sono messi sotto pressione, di tutti i giudici Udc, quindi non vuol dire che il sistema funziona, è quasi cinico dire che il sistema funziona guardando quello che ha detto Don Zalà. No, il sistema non funziona, anzi è grave che una cosa così succeda in Svizzera, tante persone sono scandalizzate, anche quando raccoglieranno le firme, anche sapere che un giudice deve pagare il pizzo, l'hai detto bene, il pizzo del primo partito, ma dice, ah ma come, ma non è possibile. Invece è così, quindi bisogna dire basta a questo sistema, quello che l'iniziativa propone è una soluzione elegante, è una soluzione che, e finisco su questo, non rende, non è che dà in mano al Consiglio federale il potere, il Consiglio federale deve solo nominare questa commissione di esperti che avrà semplicemente il compito di dire su questi candidati questi e questi hanno le competenze per diventare giudici e questi non ce li hanno, è solo fra le persone qualificate che il sorteggio deciderà. E anche qualora ci fossero dei giochi politici, supponiamo anche se, insomma, faccio fatica a credere, ma che il Consiglio federale mette nella commissione i propri uomini, le donne che poi dopo scelgono politicamente chi sono i candidati, ma no, basta avere nella legge di applicazione che ci sarà, se l'iniziativa è accettata, la possibilità di ricorso, che una persona può fare ricorso e dire, sentite, io ho le qualifiche, sono stato scartato, eccetera, eccetera. No, io sono convinto, la commissione degli esperti farà bene il suo lavoro, non c'è motivo adesso per avere la preoccupazione sulla commissione esperti e ve lo dico anche perché su questo concludo, per davvero. Abbiamo due cantoni, due cantoni dove esistono commissioni d'esperti, sono il Friburgo e il canton Ticino. Il canton Ticino, la commissione d'esperti ne so qualcosa perché ero deputato in Gran Consiglio e vi posso dire, la commissione d'esperti cantonale in Ticino faceva benissimo il suo lavoro, era anche quella commissione nominata dalla politica per così dire, però loro veramente ci presentavano la lista. Sentite, questi sono i quattro candidati idonei e poi voi scegliete, cioè voi il Parlamento. Ed è lì che entravano i problemi quando il Parlamento cominciava a fare i suoi giochi partitici, eccetera, ma la commissione d'esperti faceva bene il suo lavoro. Posso, forse, per quanto riguarda la proposta dell'elezione a vita, fino ai 70 anni, lì vedo di nuovo un'incongruenza, perché se vogliamo evitare appunto, diciamo, anche immobilismo, carrierismo, eccetera, sarebbe da pensare piuttosto a un'elezione per un periodo fisso, che potrebbe essere di 12 anni, come si fa in tanti tribunali supremi a livello europeo, in Germania, anche in Italia, con la Corte Costituzionale, eccetera. Cioè, questa tendenza appunto a questo carrierismo che secondo me non verrebbe, diciamo, eliminata dall'iniziativa, dal modello che ha scelto. Se poi ci si aggiunge il fatto che uno, oggi entrano in Tribunale federale giuristi di 40 anni neanche, relativamente giovani, dunque rimarrebbero per 30 anni almeno al Tribunale federale. Ma ci rimangono già oggi, Michele, già oggi rimangono fino a 68-69 anni, quindi cosa cambia? Ma appunto io direi, bisognerebbe togliere la rielezione, ma mettere 12 anni, per esempio, no? Cioè, una nomina in un periodo fisso, dunque, anche quella chiaramente poi non ha aspettative, perché sei nominato, fai i tuoi 12 anni e poi hai finito. Questo eviterebbe appunto di avere poi questa situazione in cui giudici che comincino poi chiaramente a lavorare di routine e a non essere più innovativi e che occuperebbero per decenni il Tribunale federale. Io trovo che sarebbe più coerente dire appunto non nomine così lunghe, ma una nomina 12 anni. Questo aprirebbe anche l'interesse al Tribunale federale di altre categorie, non solo del giudice di carriera. Cioè, indebolirebbe quell'ottica della carriera e aprirebbe anche ad altri, ad altri, ad avvocati, eccetera, perché anche un avvocato potrebbe dire, vabbè, ormai ho raggiunto, diciamo, tutto lo dovrò raggiungere, vado al Tribunale federale, divento giudice e il prestigio sarebbe diverso dal Tribunale federale. Oggi è diventato, per un certo senso, appunto, un culmine di carriera che si costruisce man mano dal basso e dove si arriva se non si è dato tanto fastidio agli altri, no? Dunque, non è... Michele, scusa, solo su questo punto, per fare una cosa, mi interrompere, ma solo per non perdere il filo. Io potrei anche essere d'accordo con te e dire, sì, va bene, 12 anni è meglio, sei attuali, facciamo così, ma in Parlamento su questo hanno provato la sinistra, ha provato un controprogetto, hanno provato proprio a dire, facciamo 12 anni, non sei anni, ma 12 anni, semmai con la possibilità di rielezione. Ma non c'è la maggioranza per quello, la maggioranza del Parlamento non vuole, quindi è bello che tu lo dici, ecco, il sistema attuale non va bene, 12 anni sarebbe meglio, ma potrei anche essere d'accordo, ma non lo vogliono, non lo vogliono, quindi per quello che adesso o c'è il sistema attuale, status quo, con tutti i problemi di cui abbiamo parlato, oppure c'è questa iniziativa? Ecco, una via di mezzo non c'è e una maggioranza in Parlamento per una riforma che tu auspichi non c'è. Diciamo che penso che ci sono dei segnali a livello, appunto, cantonale, Friburgo, Ticino, si stanno sperimentando queste forme di consigli della giustizia, eccetera, e credo che si nota anche, per esempio, guardando un po' le elezioni di giudici a livello adesso cantonale, che i giudici non partitici aumentano, cioè c'è un incremento, adesso in Ticino per esempio è stato poco nominato il giudice primilinari, nuovo, che si è candidato espressamente non volendo essere dentro un qualsiasi parte, come partai loser, no? Ed è stato eletto. La commissione l'aveva proposto come il miglior candidato e il Parlamento cantonale l'ha poi eletto. E' quello grigionese? Sì, è ticinese ma lavorava nei grigioni, l'Ibot, no? Dunque abbiamo, e ho visto anche in altri cantoni, questi giudici non partitici sono in aumento e vengono eletti, dunque c'è un cambiamento, chiaramente il discorso è quanto sono lungo i tempi, ma penso che anche in Parlamento, sia a livello di Consiglio Nazionale, degli Stati, ci sono state le proposte, va bene, non le hanno accettate, ma io credo anche che questa votazione adesso anche se penso non passerà, ma comunque darà un segnale in questo senso, cioè la politica non vuole mollare il giocattolo, questo si è capito, no? Perché non vuole lasciarlo, ma io credo che bisognerà poi continuare a ragionare su riforme e una questione anche di cultura giuridica sta cambiando in questo Paese, perché anche i giudici stessi vent'anni fa non erano così insofferenti rispetto alla rielezione, per esempio, no? Questo è cambiato anche il modo di essere giudice e dunque tutto questo porterà poi col tempo sicuramente a delle riforme. Ora, se passa l'iniziativa abbiamo poi un modello e quello è, dunque col fatto appunto che è costituzionale poi e secondo me il modello che si propone, la critica in parte la condivido, ma il modello che si propone non risolve il problema basilare, perché la politica non si può buttare fuori completamente da quello che è il discorso del Tribunale Supremo, gli esperti nominati dal Consiglio federale non saranno soltanto tecnici oggettivi, non si è mai riuscito, si parla da migliaia di anni dell'indipendenza del giudice e della personalità del giudice. Non ci sono criteri oggettivi per veramente riuscire a capire che cos'è adesso il giudice ideale. Dunque ci si limita poi a fare appunto una valutazione di competenze tecniche, perché quello si può fare, no? Si può appunto misurare la competenza, in un certo senso competenza tecnica, ma la geriale di un candidato. Ma gli aspetti più soft, no? Questi della personalità eccetera, non riusciamo anche appunto né adesso né, cioè non si riesce veramente a definirli. Dunque rimangono degli ambiti anche così discrezionali anche in una scelta di un giudice. E non credo che col sistema di una commissione di esperti, io direi piuttosto si sarebbe dovuto pensare a una commissione o a una specie di CSM, dove ci fosse sia la politica che i giuristi, che altre competenze psicologiche, manageriali eccetera. Dunque quell'organo, e quell'organo dovrebbe essere appunto anche però politico, cioè la politica dovrebbe essere presente ma non in maggioranza, dovrebbe dominare quell'organo. E lì sarebbe la rappresentanza che si cerca, perché quando poi si arriva a scegliere questi giudici, la popolazione che si ha davanti di giuristi è già talmente filtrata, scremata, che non si avrà mai poi lì il rappresentante di una minoranza, che so, una minoranza di gender o di altre tipologie. Perché non c'è i giuristi, i giuristi sono già quelli che arrivano a candidarsi per andare a Lausanna, per andare al Tribunale federale, sono già stati scremati da un sistema che li ha in qualche modo omologati. Dunque non è come scegliere una giuria popolare dove tu hai la popolazione e poi con la casualità il sorteggio, come si dicevano i giuri popolari, tu scegli poi i giurati, no? Quindi è diverso. Qui abbiamo a che fare con, non rendeci conto, abbiamo a che fare con una selezione già avvenuta molto prima di quelli che sono poi i potenziali candidati. E dunque il sorteggio potrebbe anche andare, ma non credo che abbia questo effetto di aprire che può avere magari in altri contesti, come appunto nella scelta di un manager, in altri contesti, ma qui nel contesto della giustizia abbiamo a che fare con una cerchia ristretta. Non avremo mai quella rappresentanza, diciamo, della diversità della società dentro il Tribunale federale, che poi è un po' anche un mito, sinceramente, no? Perché anche i giudici si dichiarano di un partito, poi alla fine stanno in un collegio di giudici, devono argomentare in maniera giuridica, sono controllati l'uno dall'altro. Dunque gli eccessi in quel senso anche di una pressione partitica sono sempre molto limitati all'interno di un collegio di giudici. E si è visto poi appunto, come mi dicono anche tanti giudici federali, non è il mio collega di partito politico che ragiona come me. Io ho più conflitti con lui che magari con un altro di un altro partito. Dunque ci sono altre logiche che entrano poi nella dinamica di un Tribunale Supremo. Per cui riforme andrebbero effettivamente fatte. Credo che l'iniziativa stessa però precluderebbe certi percorsi e andrebbe a chiudere su un'illusione che basta togliere la politica dal tutto e tutto andrà alla perfezione. Bene, apriamo qualche domanda? Posso fare una domanda a Michele Illuminati? Prego. Sono Massimo Predieri. Lei ha affermato che la politica non si può eliminare dal Tribunale federale. Ci può spiegare perché? Io distinguerei tra politica e politicizzazione. Quello che non va bene appunto che abbiamo adesso è questo stretto legame tra partiti, la chiave di suddiviso, la torta divisa dei partiti e poi si nominano i giudici secondo questa chiave. Ma quando si parla di politica è un'altra cosa, cioè il lavoro del giurista e soprattutto dei Tribunali Supremi è un lavoro giuridico ma sempre anche politico perché una sentenza del Tribunale federale della sezione di Lucerna delle assicurazioni sociali sull'invalidità ha delle ripercussioni enormi sull'economia per esempio. Dunque sarà una decisione tecnica, viene anche vista come tecnica, ma quello che le implicazioni che ha una sentenza, una giurisprudenza diciamo di una Corte Suprema sono chiaramente anche politiche e questo è inevitabile. Se pensiamo al caso UBS, quella riunione in pubblico, la Camera pubblica dove venne decisa quel caso con Don Zalà appunto che non seguì diciamo l'inniere del partito, da prevedere perché il Consigliere federale Maurer era quello che aveva fatto la causa contro contro l'UBS, tra le altre cose era loro che volevano collaborare. Comunque quando ci fu quella quell'udienza pubblica, man mano che si esprimevano i singoli giudici, le azioni dell'UBS andavano su e giù, cioè proprio in relazione esatta a quando si esprime il primo e il secondo giudice e quando erano due a due, prima sono salite e poi sono scese e quando Don Zalà l'ultimo ha preso posizione sono scese. Dunque lì si vede, si poteva vedere quasi fisicamente come una sentenza del Tribunale federale ha delle implicazioni politiche. Questo è inevitabile. Dunque dobbiamo toglierci dall'illusione che il lavoro del giurista sia un lavoro diciamo prettamente di interpretazione oggettiva di una fattispecie e di una norma. In questo senso ci sono chiaramente delle implicazioni politiche di questi giudici. Ora fin quando tutto questo avviene in un contesto appunto di un dibattito che poi deve comunque trovare un'argomentazione giuridica, perché non è che poi il giudice può dire, Don Zalà può dire io mi oppongo all'Udc per cui do ragione alla Francia contro l'UBS. Lo deve argomentare ma chiaramente lo sanno fare questa argomentazione giuridica, però l'implicazione politica esiste. Dunque pensare che nominando appunto i più capaci tecnicamente, i giuristi migliori, non ci sia poi dopo la politica nel lavoro del Tribunale federale è un'illusione. In questo senso intendo che il lavoro dei giudici è anche sempre un lavoro politico, in un senso diciamo positivo. Il negativo è quando appunto diciamo è il partito che dice al giudice cosa deve fare e quel giudice lo fa. Allora lì siamo davanti a una politicizzazione della magistratura, no? E l'Italia su questo la sa lunga. Bene, altre domande? Ne vorrei fare una io se posso. Avete mai ipotizzato di sostituire, cioè di lasciare questa commissione peritale e poi predisporre invece di un sorteccio una votazione popolare per la scelta dei giudici? È complicato? No, ci sono dei cantoni, Ginevra per esempio, o alcuni cantoni della Svizzera tedesca, credo Turgovia, che hanno già oggi l'elezione popolare dei giudici. Quindi sarebbe qualcosa che si potrebbe potrebbe fare, però è chiaro adesso. Quello che propone l'iniziativa è un'altra cosa, è un sorteggio. Va però, diciamo, secondo me tante cose che Michele auspica, a dire il vero, la cosa migliore sarebbe di votare sì all'iniziativa e se l'iniziativa passa, allora lì agire sulla legge di applicazione. Perché l'iniziativa, come ogni iniziativa popolare in Svizzera, modifica o introduce un nuovo articolo nella Costituzione. Ha però bisogno di una legge di applicazione. Ed è chiaro che noi non potevamo nel testo d'iniziativa chiarire ogni singolo dettaglio. Cioè sarebbe anche ingiusto criticare un'iniziativa popolare qualsiasi perché non è andata in tutti i dettagli. Per quello che ci vuole un Parlamento che faccia la legge di applicazione. E in questa legge di applicazione è assolutamente possibile inserire dei parametri di come comporre questa commissione di esperti. Io sono, Michele, assolutamente d'accordo con te. Non ci vogliono soltanto giuristi dentro. Ci vorrebbe anche uno psicologo o sociologo o qualcuno che ha un'esperienza di altro genere però interessante e importante per poter... Hai parlato di manageriale, eccetera. Assolutamente, assolutamente. Però questo è qualcosa che va chiarito a livello della legge di applicazione così come la possibilità per i candidati scartati di far ricorso che ancora di più, secondo me, obbligherebbe la commissione a valutare le candidature in modo, come posso dire, il più oggettivo possibile. anche che per far sorteggio ci vogliono almeno un certo numero di candidati validi. Perché è chiaro che se tu ne scegli due e dici adesso decidi il sorteggio, allora è chiaro che lì diventa tarrocato. Però, se come noi pensiamo, dovresti averne almeno sei, a quel punto la commissione di esperti non può influenzare. E questo è proprio il bello del sorteggio, e forse magari concludo su questo. Il bello del sorteggio è proprio questo, che a lungo termine, considerando che ci sono 38 giudici, più i giudici del tribunale penale, amministrativo, eccetera, eccetera, avresti in modo naturale, grazie alle regole della probabilità, avresti una composizione del tribunale federale variegata, io direi in modo più rappresentativo di oggi. Oggi si basa solo sui partiti, anche lì non siamo sicuri se veramente dietro il partito si nasconde una persona che pensa come più o meno quel partito. Quindi tu avresti comunque diverse opinioni, anche filosofiche, su come concepire il diritto, come valutare, interpretare il diritto, ma ce l'avresti in un modo naturale, e ancora una volta più rappresentativo di quello che è la realtà in Svizzera, almeno dei giuristi. È chiaro che stiamo parlando al tribunale federale, immagino che uno debba aver fatto gli studi in legge, come minimo, ecco, non prendo un ingegnere civile. Ecco, però all'interno di questo gruppo, comunque largo, di giuristi, il sorteggio 1, come ho detto prima, farebbe sì che più persone qualificate si candidino, e due, grazie alle regole della probabilità avresti ancora una volta una rappresentanza di diverse idee, esperienze di vita, eccetera, eccetera, più equa, più adeguata rispetto alla situazione odierna. Bene, un qualche altra domanda? Posso intervenire? Certo, Gael. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Michele Luminati, tu hai fatto cenno nel tuo primo intervento alla questione della mancata o mancanza, una lacuna normativa per cui non esiste in Svizzera una legge sul finanziamento dei partiti. Volevo capire questo elemento qui, quanto infiscia in realtà, in tutta quanta la discussione che noi stiamo facendo. Tra le righe, a volte, ho l'impressione che i partiti hanno votato contro questa iniziativa, anche perché hanno bisogno, soprattutto alcuni partiti, come il pane di quel pizzo che i giudici, che arriva anche a delle cifre notevoli, hanno necessità per far quadrare i loro bilanci. ecco, volevo capire da tutti e due, sia da Nenad Stojanovic che da Michele Luminati, se è un elemento di tutta questa discussione importante o marginale. Spondo io? Ma sicuramente non è marginale, cioè appunto perché poi ci sono dei partiti in particolare che richiedono delle cifre relativamente alte, dunque, e non soltanto dai giudici federali, no? Cioè, noi parliamo adesso di Lausanne e di Lucerna, poi ci sono i tribunali di penali di federale, i tribunali di amministrazione federale, dunque prima istanza, sono molti più giudici lì. E dunque, e poi nei camponi, insomma, sicuramente questo è un fattore che ha portato anche a questa reazione, da parte mia non condivisibile, di non fare nulla, no? Cioè, di non fare neanche una minima riforma. I liberali pare che appunto avrebbero voluto togliere la mandatsteuer, ma perché loro chiedono, hanno altri finanziamenti forse più cospicui rispetto ad altri partiti e non chiedono poi, diciamo, una cifra così elevata ai loro giudici. Mentre per esempio i socialisti o i verdi chiedono delle cifre molto più alte. Sicuramente questo ha influito sulla reazione della politica all'iniziativa stessa o alla discussione che c'era già prima, che è iniziata già prima, no? Su questa, su questa tassa di mandato che si paga. Ed è un problema che ci portiamo avanti da anni in Svizzera, sempre di nuovo sottolineato, appunto, che non c'è una regolamentazione chiara del finanziamento dei partiti, che sicuramente toglierebbe peso a questo argomento. Sì, no, è assolutamente qualcosa, una questione importante, la questione del finanziamento, la mancanza del finanziamento pubblico dei partiti in Svizzera. Ed è vero che di questi soldi dei giudici hanno bisogno soprattutto i partiti della sinistra ed è probabilmente quello che spiega perché i verdi socialisti sono contrari all'iniziativa. Non lo diranno mai apertamente, però io dopo voglio dire, parlo anche con le persone e so che di fatto è così. Di fatto è così. Perché veramente, da un punto di vista adesso di un partito di sinistra, accettare la situazione attuale dove Udc come espressione della destra nazionalista fa in fondo quello che la destra nazionalista fa in tutti gli altri paesi. Scusate, cosa sta facendo, cosa ha fatto Berlusconi in Italia, Orban in Ungheria, eccetera eccetera. Blocher sta cercando di fare la stessa cosa, rendiamoci conto di questo. E quindi in un sistema attuale hanno 12 giudici su 38, i socialisti ne hanno 5, i verdi ne hanno 4. Quindi la sinistra insieme ne ha 9 e Udc da sola ne ha 12. E quindi come possono i socialisti accettare, io sono un socialisto, come possono accettare una cosa del genere? Ecco, dietro le quinte ti dicono sì che hanno bisogno dei soldi di questi giudici. Allora qui due cose. Uno, i socialisti nel passato hanno anche rifiutato soldi da Credit Suisse, Credit Suisse era pronta a pagare un milione all'anno, un milione, un milione, a tutti i partiti. Anzi, adesso sappiamo che paga un milione all'Udc, un milione al PLR, un milione al PPD, tutti i partiti di governo. I socialisti dopo un dibattito hanno detto no, questi soldi non li vogliamo. Potrebbero dire la stessa cosa per i giudici, è importante l'indipendenza della giustizia, facciamo noi un passo volontario e diciamo di rinunciare. I socialisti ticinesi l'hanno fatto, quindi l'estate scorsa, credo primo cantone, i socialisti ticinesi hanno detto noi non chiediamo più i soldi ai nostri giudici cartonali. Ecco, secondo me la stessa cosa devono farlo anche socialisti svizzeri e come sezione ticinese del Partito Socialista abbiamo fatto una mozione in questo senso che sarà discussa al Congresso Socialista a Ginevra il 5 febbraio. Gael, se ci sarai, potrai assistere. Ecco. Però la seconda cosa è che di fatto c'è una soluzione molto elegante a questo problema. Da un lato mancato finanziamento dei partiti politici che spiega perché alcuni partiti prendono i soldi dai giudici o anche dai politici. La soluzione è molto semplice. Se oggi un giudice federale guadagna, supponiamo, 360.000 franchi all'anno, che è già una bella cifra, supponiamo, paga 20.000 al partito, ok? Domani gli dici il tuo salario è 340.000, però questi 20.000 vanno in un fondo da cui si finanziano tutti i partiti. Quindi alla fine i giudici ricevono la stessa cifra come adesso, i partiti ricevono più o meno la stessa cifra come adesso e lo Stato non spende di più di adesso. Quindi è una win-win-win, è una soluzione win-win-win. Io l'avevo proposto in Parlamento ad alcuni deputati che conoscevo. Adesso leggo l'altro giorno che i giovani verdi lo propongono anche. Quindi addirittura Andrea Caroni, che è il PLR, presidente della commissione giudiziaria del Parlamento, a un certo punto ha parlato anche di questa soluzione. Quindi una soluzione elegante che non fa spendere a nessuno di più e tutti sono felici e contenti, inclusi i giudici con i quali ho parlato, mi hanno detto tutti guarda, sottoscrivo subito perché così almeno mi libero di questo peso anche a livello della mia coscienza di dover pagare un partito, perché non è un problema dei soldi per i giudici. Ovviamente è una questione anche proprio di loro, perché i diversi hanno comunque una certa etica e concezione dell'indipendenza che sentono violata dal fatto che devono pagare il proprio partito. Quindi i giudici sono contenti, i partiti sono contenti e Udc è contenta perché lo Stato non spende di più, perché loro sono sempre attenti alle spese dello Stato. Quindi tutti felici e contenti se si vuole, ma se non si vuole, buonanotte. Grazie a tutti e due. Vuol dire che chiaramente ci sarebbero delle soluzioni anche adesso al di fuori dell'iniziativa stessa, dunque fattibili per questo punto di vista. Volevo solo aggiungere che Nenad parlava appunto dei partiti di destra sovranista eccetera. Questo chiaramente è un fenomeno internazionale, cioè che cosa vanno ad attaccare Polonia, Ungheria, Udc eccetera? Quale potere dello Stato attaccano in primis queste politiche di questo tipo? La magistratura. Cioè è sempre il terzo potere che viene in primis messo in questione, attaccato e cercato di domesticare rispetto appunto a delle posizioni ideologiche. E la Svizzera, diciamo che il sistema attuale ha funzionato abbastanza bene fin quando c'era appunto, diciamo, questa pace se vogliamo politica, no? Cioè non c'erano queste grandi differenze. Ora con una estremizzazione delle posizioni della destra eccetera, è chiaro che questo sistema funziona sempre peggio, cioè sempre di più escono appunto le pressioni sui giudici, no? Le pressioni sulla rielezione. Dunque è legato molto anche a questa questa iniziativa contro gli giudici stranieri, che erano tutte iniziative mirate, cioè stiamo attenti, l'iniziativa era mirata a impedire che il Tribunale federale svolgesse il ruolo di corte costituzionale rispetto alla ai diritti umanitari, alla Convenzione Europea dei diritti umani. Dunque la destra in questo senso, sovranista, come lo vogliamo chiamare, va subito all'attacco della magistratura e questo ha sicuramente anche poi dall'altra parte provocato che i giudici stessi, la magistratura stessa in Svizzera, ha cominciato ad essere più sensibile rispetto a queste situazioni. Dunque l'escussione è molto legata a questo aspetto della destra, secondo me, che ha portato appunto a uno sbilanciamento di quello che era forse, se guardiamo anche le elezioni negli anni 60-70, le statistiche, io le ho fatte da 1848 ad oggi, vediamo che negli anni 60-70 era la pace anche, cioè non ci furono quasi elezioni giudici discusse, non ci furono praticamente rielezioni difficili, no? Poi dagli anni, fine 70, anni 80, il tutto ha cominciato a cambiare, dunque questo sicuramente ha portato anche a un cambiamento, diciamo, culturale che chiede delle riforme, in effetti, io ho un'idea che le riforme ci vogliono, dunque. Domanda appunto se quelle proposte adesso siano la strada giusta. L'occasione adesso, da non perdere. Eccoci arrivati, io purtroppo ho un altro Zoom, un'altra riunione, ma penso che abbiamo fatto il... Io vi ringrazio molto, è stato molto interessante, anche se l'iniziativa non dovesse passare, penso in tutti i casi che sia aperto un filone e un qualcosa che ci porterà sicuramente a un miglioramento della situazione. Indubbiamente penso che ci sia il grosso rischio della lobby e della magistratura, come c'è in Italia, che è un altro sistema in parallelo alla lobby dei partiti. Ma sicuramente il tutto è molto complicato e va discusso. Speriamo che il popolo e decida è per il meglio. Grazie a tutti. Buonasera Fabio, grazie a tutti. Grazie a tutti e buona serata, ciao. Ciao Fabio, ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti, buonasera.